Sindaco, si è creato un po' di allarmismo dopo i casi di dengue e c'è anche un po' di timore di uscire di casa. È una pura fondata. Quali sono le direttive dell'Ast e anche le ultime sue direttive? Sì, assolutamente non c'è nessun coprifuoco. Tutte le attività economiche sono regolarmente aperte senza limiti di orario, quindi le persone possono tranquillamente uscire di casa, girare anche di notte, ci mancherebbe altro. È chiaro che l'ordinanza punta che quando il mezzo è in movimento nei pressi delle abitazioni, invitiamo i residenti a entrare dentro casa e chiudere le serrande. Questo è lo spirito dell'ordinanza ed è bene spiegarlo chiaramente. In queste ultime ore sono aumentati i casi di dengue, questo l'ha portata a emanare una nuova ordinanza? Sì, ci sono altri due nuovi casi di dengue, quindi abbiamo ritenuto e ho ritenuto importante aggiornare l'ordinanza, visto che ieri sera non abbiamo fatto la disinfestazione a causa della pioggia. Questa sera abbiamo già deciso da questa mattina alle otto e mezza, quando ho deciso di convocare il COC, non faremo la disinfestazione perché continuano le condizioni meteo avverse. Quindi la disinfestazione, salvo ulteriori proroghe, partirà da domani notte, quindi la notte tra sabato e domenica. Ed è chiaro che essendoci nuovi casi ho deciso di allargare questa ordinanza a tutti i centri abitati di Fano, quindi comprendendo ad esempio le frazioni di Rosciano, Bellocchi, Cucurano, Carrara, Fenile o tutta la parte a sud, quindi Metauriglia, Tombaccia, Ponte Sasso e Torrette. Quindi è importante allargare a tutti i centri abitati, lo faremo e per questo abbiamo individuato altre ditte, perché quella che c'era non bastava e stiamo mettendo in piedi tutto il cronoprogramma, con tutte le date e tutti gli orari per la quale speriamo tra sabato e domenica partiranno. Naturalmente il Lungomare e il Centro Storico saranno gli ultimi ad intervenire, quindi quando le persone di fatto non gireranno per le vie, quindi verso le 4 o le 5 di mattina. Sul tema sono intervenuti diversi consiglieri d'opposizione. C'è chi parla di ordinanze pasticciate e contraddittorie, chi di mancata azione di contenimento del fenomeno durante il periodo estivo, chi vorrebbe maggiori informazioni sulla propagazione della dengue. Che cosa risponde a queste critiche? Io mi aspetto dai consiglieri di opposizione, maggior collaborazione, non speculare sulle paure della gente, spesso purtroppo anche infondate, nel senso che dal primo giorno, quindi due giorni fa, quando c'è stato il primo caso a Centinarola, ho emanato l'ordinanza e la sera abbiamo fatto la disinfestazione. Il giorno seguente sono emersi nuovi casi, ne ha avvallato il Viale Buozzi, quindi ieri ho provveduto a una nuova ordinanza sicuramente molto più importante per la disinfestazione di tutte le altre zone e oggi aggiorno questa ordinanza con altre zone, quindi tutti i centri abitati. Io, come ho fatto quando c'è stato il Covid e quando c'è stata la bomba, da consiglieri di opposizione ho sempre dato grande collaborazione al sindaco e all'amministrazione. Questo mi aspetterei dai consiglieri di opposizione, poi è chiaro che nessuno è perfetto e tutti possono sbagliare. Però penso di aver lavorato in maniera seria, poi c'è sempre chi specula, parlo naturalmente dei social, dove si creano allarmismi infondati, inutili, che purtroppo molto spesso danneggiano solamente la nostra città. E vi specifichiamo che le ditte che dovranno eseguire la disinfestazione stanno stabilendo il programma dettagliato dell'intervento e quindi il piano dei quartieri e delle frazioni nelle diverse giornate stabilite, il quale verrà comunicato nelle prossime ore. Grazie. Grazie. Grazie.